Gentili spettatori ben trovati da Ipre, qui con me c'è Giuseppe Simone. Sì, io ti ringrazio Andrea che nonostante te sei immerso con tante porno star e donne praticamente... Opere d'arte mobili? Opere d'arte mobili, sì. 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 Perché non vai nella casa di... Opere d'arte mobili, sì. Osvaldo Farnica, con canto Patrizia Lapaura, tornerà. Anderciuri tornerà. Che discusa Cristianais? Che discusa Cristianais? Ma io è Cristianais? No, no, no. Oh, no, no! Ma io è Cristianais? No, 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 no! Opere d'arte mobili, sì. Devi fare un video! Devi fare un video! devi fare un video su un modello Modena Opera tratti mobili Zi 바激 ba esibaldisk va esibaldisk Opera tratti mobili Zi O ROI OPERA tratti mobili Zi se caldi di sotto Ti metto in cinta Te ne vai a leggere Con due gemelli Capola di Giuseppe Zimone Non abbiamo avvocato Avvocato A me non verrà daño E l'abranno daño Avvocato Colgo le occasioni e dire che L'abranno daño Colgo le occasioni e dire che Colgo le occasioni e dire che Io ho bisogno di lavorare E vorrei andare nel centro e nord Italia Per trovare un imprenditore di buon anima E che... Oh no 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 no!